8 corzie, doppie pedane per tutte le specialità di salto e lancio, tribuna in grado di ospitare 1.220 spettatori con 880 posti coperti ed inoltre 4 torri per garantire l'illuminazione notturna. Questi sono alcuni dei dati che caratterizzano il nuovo stadio d'atletica di Arezzo, situato nello splendido scenario della zona di Castelsecco tra le colline di San Cornelio e Santa Maria. Uno dei cinque impianti più grossi e più importanti d'Italia e questo ci rende evidentemente più che soddisfatti. Io sinceramente essendo assessore da un anno sono venuto a chiudere il cerchio di un lavoro decennale, quasi decennale per la realizzazione di questo campo di atletica. Adesso a me spetta un compito altrettanto importante, a noi spetta un compito altrettanto importante che è quello di farlo funzionare in maniera igreja. Qui potremmo ospitare eventi nazionali e internazionali di atletica leggera, uno sport come ho detto anche stamattina, uno degli sport più sani, più genuini, più veri che ci siano e quindi io credo sia più che importante in un contesto assolutamente eccezionale. La Regione garantirà i 70.000 euro che servono per finire, terminare e portare a compimento quest'opera? Sì, non potevamo non accorgersi di avere un'eccellenza nel territorio, quindi la Regione martedì ha deliberato la giunta regionale, la prossima settimana porteremo in consiglio la variazione di bilancio per contribuire all'acquisto delle nuove attrezzature che credo di assoluta eccellenza. Una struttura come questa, d'altro canto, deve in qualche modo garantire anche attraverso le attrezzature che non sono un dettaglio, sono uno degli strumenti per aumentare la performance e debba in qualche modo essere presente. Nel mese di luglio l'inaugurazione anche della foresteria dell'atleta. Sarà una struttura capace di accogliere le squadre, le comitive, 96 posti letto, spazi per la ristorazione, per il relax, piscina, palestra, ambulatori medici e ovviamente adatta anche ai ritiri delle imprese, delle società nazionali e quindi è come dire l'elemento di accoglienza e di servizio ulteriore a tutta la cittadella dello sport. Grazie a tutti.